ed è domenica 30 giugno anche questo mese ce lo siamo lasciati alle spalle ultima giornata di giugno anche per la web tv di Sherwood in diretta dal Park Nord dello stadio Euganeo sul nostro divanetto nel salottino c'è la vera conduttrice della serata. Buonasera Carlo. Tutto bene? Bene bene soprattutto quando ho saputo che avremmo trasmesso insieme e quindi un esperimento di ruoli. Mi sono successo l'anno scorso non rinnegare il tuo passato. Ma in realtà poco poi anche l'altra volta eravamo anche insieme ad Ivan quindi io e te da soli è la prima volta per questa sera. E allora si spengono immediatamente le telecamere e io resto qui con la colonna ad approfondire tutto questo piacere che sta provando nella nostra diretta invece non siamo soli. Non siete proprio soli. Non siamo soli no purtroppo no. La voce fuori campo è fuori campo dalla regia fuori campo il comitato come suggeriva qualcuno comitato diciamo in versione stream web tv diciamo. Alle telecamere c'è Anonymous che ci sta riprendendo. Proprio lui in persona. Sì si abbiamo tolto la maschera abbiamo visto che è Marco Maschietto. Non è più tanto Anonymous. Adesso partirà con un aereo verso l'Equador anche lui chiaramente insieme agli altri due che lo stanno già aspettando. Questa sera Claude cosa c'è? Questa sera c'è una serata dedicata al tango. Tutto tango inizialmente. E tu sei una grande esperta di tango. Espertissima direi si vede dal fisico no sono una grandissima ballerina di tango. Hai sempre i tacchi stasera hai delle scarpettine da ginnastica ma normalmente. Ma tu lo sai che mi è vietato portare i tacchi? Perché ti è vietato? Perché un uomo senza spina dorsale mi vieta di portare i tacchi perché non li trova sexy in una donna. Li vuole vuole i piedi con le scarpe da ginnastica. E tu a secondi un uomo senza spina dorsale e così. Ma sì sto più comoda con le scarpe da ginnastica fondamentalmente. E ne approfitti anche tu. Ma stasera è anche la serata di futbologia dopo di noi e dopo le interviste che faremo all'autore del libro e all'organizzatore della serata di tango. Cara Claude si parlerà e questo è il... Cosa ha in mano? Che cos'è quello? Questo è il... Come si dice? Come si dice? Il pupazzetto che c'è ai mondiali di solito. Come si chiama? Sì. Quella roba lì. Il pupazzetto dei mondiali. Il pupazzetto dei mondiali di futbologia ed è diciamo un cubo come potete vedere con dei pallini dentro. Visto che si parla di calcio un cubo. Perché spot alla rovescia e futbologia parlano di calcio sempre in maniera un po' diversa. Come il nostro autore di libri dice appunto di parlare di tango in maniera un po' diversa e gli chiederemo dopo. Assolutamente. Dice che è contro gli stereotipi. Lo puoi già annunciare. Sappiamo già un nome. Michele Balboni sarà con noi e presenterà il mio tango edizioni volta la carta. Quindi ci parlerà del suo libro che è un libro diverso da quelli che si vedono di solito che ce ne sono tanti comunque sul tango e la sua storia. Noi nel frattempo nell'attesa ci andiamo a vedere un contributo video che è la galleria d'arte fotografica del maestro Franz. Nel frattempo l'autore del libro è già che già lì che ci sta aspettando. Quindi mandiamo il video e poi lo facciamo entrare in studio con noi ovvero con la mitica fantastica Claude. Che contento che sono stasera. Guarda video Franz Arab Freestyle lì nella regia. Ciao Barba, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci tornati in studio, avremo modo di approfondire con Franz perché spesso ospite in questi studi dove saranno ancora visibili queste foto come poterle acquistare per averle nella propria stanzetta ma dobbiamo passare la linea al salottino perché come ben sapete ogni serata abbiamo ospitato un autore di un libro, abbiamo letto più o meno un libro al giorno tutti quanti questo mese, è stato un mese fantastico Un mese intenso Siamo qui con Michele Balboni che presenta il suo libro Edizioni Volta alla Carta Il mio tango, il tuo tango Perché? Da cosa nasce un dirigente d'azienda che si mette a scrivere? Il mio tango nasce da uno scherzo Nasce da uno scherzo, io ho molta paura di andare in aereo nonostante sia dirigente d'azienda e per lavoro debba viaggiare e volare ho molta paura, in aereo scrivo per rilassarmi scrivo cose varie, elenchi, cose belle, cose brutte e una di queste volte, una delle volte scorse ho scritto sul retro della carta d'imbarco sul libro c'è proprio la fotocopia della carta d'imbarco ho scritto una cosa sull'abbraccio l'abbraccio è il momento iniziale, è il momento più bello del tango tu balli il tango? No, purtroppo io non sono una grande ballerina al massimo mi descrivevano come Cormorana quando ballavo musica dark new wave ma la seduca, la seduca è lo stesso perché vedo che c'era una posizione che stava per instaurare un'opera di convinzione vediamo come un tanghero convince una dama a ballare il tango è molto difficile che io riesca a sedurre lei perché potrei essere suo papà ma questa è la web tv, la tv è finzione come lei sa possono succedere delle magie nella web tv così come nel tango nel tango succedono molte magie una di queste magie è il fatto che io ho imparato a ballare ben oltre i 40 anni quindi in un'età in cui oramai le carte che ci hanno dato a disposizione sono già state quasi tutte giocate o comunque attribuite io ho imparato, mi sono molto divertito a ballare mi diverto molto a ballare e dopo un po' ho pensato che avevo tante cose da dire e molte di queste cose le ho sintetizzate in questo libro che noi vediamo anche la copertina adesso che passa quindi possiamo vedere qualche immagine in particolare il titolo direi che è un po' tutto il mio tango, nel senso come io vedo il tango il mio tango può anche voler dire il mio caro tango, quindi un elemento di affetto può anche voler dire io e il tango cioè la mia storia degli ultimi dieci anni almeno della mia vita personale un po' meno professionale con il tango quindi è un po' diverso da quello che vediamo di solito come libri di tango dove magari parlano della storia delle musiche, dei tangheri ma qualcosa proprio di introspettivo cosa c'è di diverso in qualsiasi altro volume che parla di tango? ecco, la diversità del mio libro rispetto alla normalità dei libri di tango è notevole di questo ne sono piuttosto orgoglioso non solo perché io non sono uno scrittore di professione e purtroppo non lo diventerò ma perché i libri di tango indubbiamente più qualificati del mio più lunghi, più belli, più documentati sono in larga parte noiosi il mio libro è tutto forché noioso è un libro che si scorre velocemente ha una lettura piana quasi che fossi io a raccontare le cose è uno che mi sta ad ascoltare una bella recensione l'ho avuta da un'amica che ha detto è come un'amica tanghera che ha detto è come averti sul comodino di casa sul comodino del letto prima di dormire con il vantaggio che racconti delle cose belle sul tango che ci appassionano e posso spegnerti in ogni momento in effetti è molto discorsivo il mio libro ha il vantaggio che quindi è fruibile non ha tutte le cose diciamo negative possiamo dire pallose che molti libri di tango contengono questa è la web tv quindi si può dire pallose scusami se ti interrompo qui a Sherwood si può dire senza problemi poteva andare anche a spingersi più in là chiaramente non ci sono grossi problemi e allora sfogliandolo se io ti chiedessi qual è il capitolo che più ti piace che più in qualche modo vorresti anche consigliare a chi si approccia e va in libreria o comunque ci dirai dove lo può trovare e dici sì beh, leggi quelle prime righe secondo me ti può coinvolgere beh, uno che scrive un libro difficilmente dici il capitolo più bello del mio libro è questo, quell'altro perché chi scrive un libro dà tutto se stesso dà in un certo senso la propria anima e quindi i capitoli sono tutti belli e uguali diciamo che da coloro che l'hanno letto e sono stati numerosi le segnalazioni più numerose più frequenti le ho avute sul capitolo che parla della mia ballerina che in realtà è tua moglie la mia ballerina è mia moglie questo capitolo ha riscosso molto successo direi molte persone sono state contente mi hanno segnalato la loro la loro anche sorpresa probabilmente per il fatto che dopo tanti anni di matrimonio uno abbia voglia eccola qui con un bel sorriso uno abbia voglia di raccontare agli altri quanto in un certo senso ama la propria moglie in questo caso la propria ballerina e quanto e quindi è bello fare delle cose fare delle cose con lei due curiosità su questo capitolo e sull'approccio che si ha una lettrice indubbiamente molto documentata ha fatto un parallelismo con Platone nel senso che l'amore di Platone che racconta Platone è un amore che non termina un amore che si alimenta di se stesso e procede io ben lontano da un approccio di questo genere cito questo perché all'opposto questo capitolo ha avuto anche un fenomeno di questo tipo un fatto di questo tipo colleghi un collega di lavoro e un altro non collega di lavoro due persone subito dopo averlo letto mi hanno telefonato sul cellulare in ufficio dicendo ma cosa diavolo scrivi non puoi scrivere delle cose di questo genere mia moglie si è arrabbiata con me dicendo tu non mi hai mai detto delle cose di questo genere hai trasmesso la passione quindi questo fatto mi è divertente perché uno lo vede addirittura con un riferimento platonico l'altro prende il telefono e dice ma cosa diavolo scrivi questo è un argomento che mi interessa e vorrei uscire per un attimo proprio dalla scrittura del libro per fare una domanda al signor Michele allora io è da anni che con l'approccio della proposta di fare lezioni di tango ovviamente cerco di approcciarmi al genere femminile immagino che anche lei insomma si sa che il tango è estremamente sensuale non so se è erotico questo sarà lei a dire la differenza come ballo ma quindi anche lei ha utilizzato all'inizio questa arma del tango della proposta della lezione di tango per conquistare una donna oppure se può dirci quando è nata quando esplose in lei il momento in cui la mia passione per il tango viene molto dopo la mia passione per la mia moglie ballerina quindi sono due cose abbastanza slegate rispetto al discorso del corteggiamento dell'approccio cosa che tu lasciavi intendere ti racconto questo aneddoto che anch'esso è naturalmente contenuto nel libro quando tu come ballerino esperto ancorché non bravo come sono io inviti a ballare una ragazza come puoi essere tu che non ha esperienza di ballo lei rimane subito impressionata dal fatto che tu la avvolgi la accingi con questo con questo tuo bel abbraccio sensuale e la tieni e la fai ballare e per lei è un bel momento e anche per te perché senti che lei è soddisfatta però nel mio caso che ho una certa età e i capelli non ce li ho più sugli occhi quello che mi è successo una volta è stato questo alla fine del ballo si scioglie chiaramente la coppia e lei mi fa è stato bello ballare con lei anche per me è stata una pugnalata per dire sì va bene però tu sei un lei e io sono una ragazza comunque la cosa la verificherò subito dopo con Claudia appena finisce la nostra diretta devo avere delle nozioni di base però non è che possa andare lì il capitolo sull'abbraccio ti dà una mano sulle nozioni di base almeno dell'abbraccio che numero è che pagina è così è il terzo capitolo terzo capitolo sono sempre più belli i terzi capitoli ultima domanda curiosità se una persona adesso è interessata anche di vedere questo famoso terzo capitolo dove può trovarlo il mio libro si può trovare principalmente fra un quarto d'ora alla Milonga qui gestita da Alberto Muraro che ringrazio perché lui che mi ha invitato qui al vostro molto divertente festival e quindi qui si può trovare a un prezzo anche se si vuole essere sinceri inferiore a quello che c'è nelle librerie nelle librerie ha una diffusione per ora limitata perché il mercato il librario italiano è un mercato molto particolare si può senz'altro comprare tramite internet sul sito di IBS il mio libro è in distribuzione nella mia città Ferrara IBS Feltrinelli il mio editore che si chiama Volta la Carta ce l'ha sul sito ce l'ha sul sito anche IBS ma per chi fosse interessato la cosa più semplice è fra un quarto d'ora mezz'ora venire lì grazie un libro quindi scritto durante i tuoi viaggi in aereo eri diretto in Argentina durante quei viaggi per andare sul campo oppure purtroppo eri di lavoro i miei viaggi in aereo sono tutti molto più corti è pensato ispirato in aereo ma ben rifinito a casa alla sera e in tutti i momenti un po' più tranquilli noi ringraziamo Michele Michele Balboni ricordiamo il libro Il mio tango edizioni volta la carta e stiamo per introdurre anche Alberto ci parlerà anche della serata diamo la linea alla regia per un contributo video scelto a caso da loro medesimi e dopo rientriamo in studio con Alberto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.